L'isola dei famosi 2017 è ormai giunta a termine. I naufraghi hanno trascorso le ultime ore sulla spiaggia. A contendersi la finale saranno Malena, Nancy Coppola, Simone Susin, Raz Degan e Deva Grimaldi. Quest'ultima, fino alla fine, ha dovuto fare i conti con la fame. Durante la notte ha mangiato del riso di nascosto ed è stata beccata da Nancy Coppola che ha commentato. La ciotola era piena, stanotte va se l'è mangiato tutto. Ecco perché ha detto oggi non mangiò. Diceva di averne mangiato solo un po' e invece l'ha mangiato tutto. Qua stiamo senza mangiare e non sappiamo se andiamo via oggi o domani. La Grimaldi, intanto, ha ribadito di non apprezzare l'atteggiamento di Raz Degan e Simone Susin. Come sono ignoranti, fanno la guerra a noi. Non siamo andati noi a fare la guerra a loro. Noi andiamo d'accordo con gli uomini. E come Simone ha ripudiato Malena qui sull'isola, lo fa anche nella vita. Come Raz non considera le donne al pari degli uomini lo fa anche nella vita. Mi dispiace pensare che l'isola non gli abbia fatti cambiare. E voglio vincere perché ci ha messo la faccia, mi sono denudata da tutto. Non dovrebbero vincere né Simone, né Raz perché non c'è realtà. Soprattutto Simone, almeno Raz mi diverte. Mi dispiace arrivare in finale con il pentagono distaccato. A questo punto è meglio un trittico vero. E già pensa come eliminare Raz nel corso della finale. Se Malena non esce e entra e nominiamo Raz, lo possiamo mandare in nomination subito. È arrivata, infine, la zattera che li avrebbe portati via dall'isola. Raz Degan, però, si è attardato per liberare i pagori. Così, Simone Susin, Eva Grimaldi, Malena e Nancy Coppola hanno iniziato ad allontanarsi a bordo della zattera, mentre Degan li ha raggiunti a nuoto. Prima di lasciare l'isola, ciascun nautrago ha detto la sua sull'esperienza fatta. Ecco quanto hanno dichiarato. Simone Susin, dopo le ultime cose che sono successe, non vedo l'ora di distaccarmi completamente dalle persone che mi hanno ferito e tradito. Ormai, voglio andare a Milano e giocare la finale. Finalmente la notizia che tutti aspettavamo è arrivata. Ho fatto delle cose che non ho mai fatto nella vita. Sono arrivato fino a qui con le mie forze. Malena, appena sveglia ho pensato immediatamente a casa, anche se so che tutto questo non lo rivedrò mai più e non lo rivivrò mai più. Però, vedere questi musi, vedere Raz Simone in disparte, mi dispiace ma nello stesso tempo, non mi interessa. Nancy Coppola, vorrei vincere perché sarebbe per me una grande soddisfazione e non solo per me, ma per tutti i napoletani. Portare la vittoria a Napoli sarebbe un'emozione bellissima. Simone e Raz non dovrebbero lasciare l'isola con il muso. L'isola non è finita qua, adesso c'è un mondo che ci aspetta fuori, il nostro mondo e se non l'hanno capito, mi dispiace veramente tanto. Eva Grimaldi, non vedo l'ora di abbracciare le persone che amo, però sento ancora che l'isola mi appartiene. Sarà un brutto momento quando ce ne andremo, perché l'isola resterà sempre nel cuore e nella testa. L'isola ha il sapore dell'amore, ti fa piangere, ti fa ridere, ti fa sognare. Raz The Gun. Viaggio da anni, so riconoscere quando il viaggio è terminato. In questo momento sto provando gioia. È un'emozione forte che devo digerire prima di esprimere un parere. Non so se mi capiterà più di essere un naufrago. Quello che mi porterò è il rumore delle onde e tutta questa vita che c'è nella natura. Certamente non porterò nessuno di loro con me. Chi se ne frega.